La situazione attuale del governo la conosciamo tutti, è un momento molto delicato. Come legge il circolo a retino di Italia Viva quello che sta accadendo? Io credo che quello che è successo in queste ultime 24 ore sia alla fine di un percorso con cui noi di Italia Viva, ringraziando non solo il nostro leader ma tutto il gruppo che è rimasto compatto e ha sempre sostenuto al centro della relazione i contenuti e i programmi ed è su questo non come ci hanno detto da settimane in tutti i media che noi eravamo lì per le poltroni perché credo che dall'anno 90 siamo l'unico partito che ha ritirato i ministri in corso d'opera proprio per dimostrare che noi non volevamo ma volevamo che cosa? Quei contenuti che devono ribaltare la sorte di questo paese. Questo è un paese che è in crisi sanitaria, che è in grande crisi economica, che ha problemi di socialità educativa dei giovani. In cittadini di Comaderezzo pensare che 10 ragazzi si scontrano in piazza San Francesco vuol dire che manca quel tipo di relazione che era il centro di qualsiasi dinamiche di altri periodi storici della nostra vita. Direi anche che una buona percentuale di chi accede alle menze caritas sono aretini. Non c'è dubbio ma dirò di più direttore, noi non si scordi che a fine marzo fino aprile già nell'anno 2020 sono stati persi 444 mila posti di lavoro di cui 100 mila nel mese di dicembre. Ma lei si prepari quando c'è lo sblocco dei licenziamenti quello che succederà. Ma poi c'è un tema, quegli aspetti con cui Renzi si è battuto dal luglio, dal 22 luglio, a settembre, a novembre sono temi che dovevano per forza essere sentiti da questo governo. Perché il problema del mese non è che noi siamo testarditi del mese, ma mettere 20 miliardi in più nella sanità di fronte alle crisi che viviamo tutti i giorni. Ma non è che lo chiedeva Renzi o Italia Viva, lo chiedeva il paese. Il problema della scuola, siamo l'ultimo paese in Europa. Ma vi rendete conto cosa abbiamo ricondotto a questi ragazzi? Un anno perso di socialità, di capacità. Ora voglio vedere quale sarà il risultato degli invalsi, per capire se questa DAD ha sopperito o meno. Io non ci credo, ma credo che questa sia la situazione. Ultimo passaggio che secondo me è importantissimo. Noi avremo questa fase importante perché il periodo Draghi, di un governo Draghi, a cui non potranno dire di no la maggior parte delle forze politiche, sarà un periodo che servirà alla politica per ritrovare una sua dimensione. Basta le fake news, basta il populismo esasperato dell'odio e dell'invidia quotidiana. Bisogna ritrovare la politica del fare. E in questo Italia Viva ha utilizzato un nuovo slogan che è Il futuro è adesso per noi. Noi giocheremo questa partita nei prossimi due anni per voler essere un partito di riferimento di questa grande area riformista di questo paese. Vi giocherete questa partita immagino anche sul territorio aretino che quando Renzi era presidente del Consiglio ha dato tanto a questo politico. Noi saremo sempre al centro di quell'area di riferimento che è l'area storica del centro-sinistra. Però noi il nostro punto di riferimento, senza nulla togliere agli amici che sono ancora nel PD io ho altri che ci potranno stare o uscire. Il tema nostro è aggregare quell'area dei cosiddetta dei riformisti. Cioè quelle persone che hanno una visione non populista ma una visione di concretezza. Quella del fare. Quella di scendere a fare tutta una serie di cambiamenti. E la scelta d'agli non è una scelta strana. Perché se questo paese, al di là dei 200 o 300 miliardi, non fa le riforme della giustizia, del fisco, della pubblica amministrazione, non si possono spendere in questi paesi questi soldi. Perché non ci sono le condizioni attuali per poterli spendere.